è stata un'esperienza assolutamente positiva mi sono divertito moltissimo i ragazzi ci siamo trovati subito bene insieme è stato un bel gruppo infatti ci hanno detto che dai quattro raduni siamo stati addirittura il gruppo migliore sono stati tre allenamenti in un giorno e mezzo durissimi diciamo soprattutto la parte atletica di preparazione all'allenamento e l'ultimo giorno abbiamo anche organizzato diciamo una parte intera di 5 contro 5 ci siamo confrontati così l'uno con l'altro e in generale diciamo un'esperienza assolutamente divertente che mi piacerebbe rifare bianchi che ha giocato con me nel settore giovanile di cantù l'ultimo anno ma anche altri ragazzi che con lo che avevo conosciuto i precedenti raduni sia a livello regionale che anche qualche anno fa con la nazionale allora sacre panti sarebbe l'allenatore ufficiale appunto della selezione nazionale interventi diciamo che fa più da sfruttatore in quanto è al di fuori del campo e si scrive i suoi i suoi dati appunto sui giocatori che vede mentre ad allenare non provare gli steffè che sono assolutamente ottimi allenatori davano buoni consigli ai giocatori grazie a tutti grazie a tutti